La gente comincia ad avere paura, non continuiamo a fingere che il problema non esista. Lo sostiene Davide Trussoni, presidente della comunità montana della Val Chiavenna, dopo l'ultimo episodio di predazione in Alpeggio. È delle scorse ore, infatti, il ritrovamento di una cavalla e di un asino uccisi sull'Alpe Gusone, territorio di Campodolcino, probabilmente da un orso. Sulle carcasse sono evidenti i colpi inferti da un predatore e in zona sono state rinvenute tracce sul terreno. L'episodio segue di tre settimane quello avvenuto in località Montespluga, dove furono ritrovate le carcasse di tre capi di Angus con evidenti segni di attacco. Soltanto pochi giorni prima era avvenuto il ritrovamento di cinque pecore sbranate in località Tamborello, sempre in comune di Madesimo. Si susseguono, inoltre, le segnalazioni di avvistamento di lupi nelle vicinanze del passo Spluga. È sulla base di questi fatti che il presidente della CM Trussoni ha scritto ieri alla provincia, al prefetto e alle amministrazioni della Val Chiavenna chiedendo chiarezza, interventi, coordinamento. Prima di tutto, sottolinea Trussoni, è doveroso il massimo aiuto a che ha subito i danni materiali da queste predazioni. Dobbiamo porre la massima attenzione e solidarietà alla categoria degli allevatori, siano essi professionisti o semplicemente obbisti, perché è grazie al loro esserci ancora che si tiene viva la montagna per davvero. Trussoni evidenzia che quelle interessate dagli ultimi episodi sono zone frequentate da numerosi escursionisti e turisti, grazie agli investimenti che gli enti locali, negli ultimi anni, portano avanti per offrire un turismo attento all'ambiente e sostenibile, così come dai tanti proprietari di baite o seconde case. Il presidente della comunità montana chiede quindi alla provincia di conoscere i risultati di eventuali indagini svolte sugli ultimi episodi di predazione, di conoscere i dati su avvistamenti di lupi ed orsi e l'eventuale esistenza di un censimento di queste specie. Trussoni chiede infine se vi siano contatti con le autorità svizzere per programmare eventuali azioni comuni e coordinare il monitoraggio.